Un milione di euro in arrivo dalla regione per la ricostruzione della piscina terapeutica di Trieste a due anni dal crollo di acqua marina. L'emendamento che verrà inserito in finanziaria della giunta regionale viene accolto con favore dal sindaco di piazza. Il giorno dopo l'indiscrezione arrivata proprio su Telequattro dalle parole del consigliere regionale del PD, Francesco Russo, è avversario proprio dell'attuale sindaco nella campagna elettorale per le comunali. Sì, adesso vediamo cosa succederà col dissequestro, così poi quando sarà dissequestrata andremo a verificare in che condizioni è quella immobile. Nel frattempo, come sapete, stiamo andando avanti, abbiamo due progetti, uno degli spagnoli e uno di altre persone, per quanto riguarda la piscina terapeutica in Portovecchio. Il sindaco però argomenta sul progetto della nuova piscina terapeutica e non solo in Portovecchio, indipendentemente da quello che succederà nel sito in sacchetta una volta dissequestrato. A brevissimo avremo anche la presentazione di questi progetti e dopo decideremo insieme con la popolazione quale dei due progetti prenderemo. Quindi presumibilmente quella si fa comunque e poi la questione di rifare la terapeutica. Allora, quella si fa comunque perché la città ha bisogno, perché quella lì insomma era piccola, sappiamo tutte le dimensioni di quella. Poi quando sarà dissequestrata andiamo dentro ai miei tecnici e decidiamo quanto serve per metterla a posto, decidiamo se vale la pena e altrimenti prenderemo altre decisioni. Comunque in Portovecchio si va comunque avanti.